ciao ragazzi e ben ritrovati da mattia rock god in questa nuova recensione oggi voglio recensirvi un film molto molto particolare un film che si trova solo su netflix è una produzione spagnola del 2021 e si chiama dos dos in spagnolo vuol dire 22 è il numero di protagonisti del film anzi in realtà sono tre perché c'è un altro personaggio però più secondario che si farà vedere verso la parte finale del film però dos è anche un numero importante perché dos è il numero di personaggi tramite i quali noi vivremo questa esperienza allucinante perché allora queste due persone questo e questa donna si risvegliano in una stanza d'albergo sembra con i ventri cuciti insieme quindi in questo caso sono cuciti così praticamente così e cercano ovviamente di capire chi possa averli ridotti così cercano di ricordare le cose che stavano facendo prima di svegliarsi lì ma saranno ancora più scioccati quando scopriranno chi è il responsabile di questo orrore peraltro questo film lo potete vedere comodamente in una serata e in un attimo non vi accorgerete neanche che è finito perché dura 71 minuti quindi un'ora e undici e mi ha colpito veramente in maniera eccellente quindi voto super positivo ve lo anticipo già adesso perché l'atmosfera intatta ok io ho messo nella mia lista messo genere horror effettivamente un po dell'horror ce l'ha però netflix lo classifica come thriller sì in effetti un pelino del thriller ce l'ha infatti ero molto combattuto su che genere dagli perché non è facile però alla fine ho voluto mettere horror perché effettivamente mi ha fatto provare le sensazioni di quando vedo un horror sostanzialmente non è un film che fa paura però effettivamente ci sono delle scene forti poi comunque c'è lei che inizia ad accusare subito lui poi lui che accusa lei lui cerca di smentire le dicerie che dice lei della serie se è stato tuo a ridurmi così invece lui dice no no assolutamente non inventare stronzate perché non è vero come ho fatto a cucire il mio ventre col tuo cioè allora ventre in realtà sono cuciti da quindi la schiena praticamente la parte bassa della schiena praticamente e quindi che cosa posso dire inizieranno una battaglia psicologica per cercare di staccarsi ma soprattutto per capire chi possa essere stato a ridurli così peraltro poi tra i due scoppia una mezza scintilla forse dovuto al fatto che se no senza una forza comune non riusciranno mai a sopravvivere peraltro fate attenzione perché i due si risvegliano completamente nudi non si vede diciamo granché di esplicito forse qualcosa di più su di lei lui invece si vede poco parlo ovviamente di parti intime perché sapete che nei film sì le parti intime possono essere fatte vedere ma con una certa discrezione per non diventare un nudo frequente però i due si risvegliano nudi e poi cercano addirittura di entrare nel bagno della stanza per coprirsi insomma di nudo ce n'è però non è un nudo esplicito è un nudo dovuto alla situazione ecco quindi c'è nel senso è comunque un film che può anche sconvolgere in certe situazioni non perdetevi il finale perché lì succede letteralmente il casino e poi c'è un evento che appunto cambierà completamente il finale io non me l'aspettavo però è veramente un ottimo film che posso dire di più è vietato ai minori di 14 siete avvisati e è un film che colpisce molto bene lo spettatore girato bene c'è un bel po di ansia che posso aggiungere ancora se siete interessati guardatelo come sempre io vi consiglio questi film che recensisco perché riguardo io prima poi se mi sento di recensirli poi ve li consiglio anche ebbene questo film nonostante una durata abbastanza breve ma ripeto per quello che deve raccontare ci sta benissimo anzi se fosse durato di più mi sarei forse annoiato quindi direi che 71 minuti sono più che sufficienti voto per questo film un bel 9 perché è tutto praticamente quasi perfetto se non fosse per alcuni dialoghi leggermente volgari effettivamente ci sono un po di parolacce però ripeto quello è il dei mali rimane comunque un ottimo film e mi sento di consigliarvelo bene noi ci vediamo al prossimo video un grande abbraccio e alle prossime recensioni